E' arrivato il momento di far scendere in gioco l'eroe Pac-Man. Cominciamo con il farlo apparire da qualche parte nella stanza e con l'assegnargli un po' di proprietà. Creation code nei settings della stanza, dove vi chiedo di aggiungere appunto queste istruzioni. La prima crea un'istanza del Pac-Man e lo piazza in un punto fisso della stanza. Penso che ormai siate in grado da soli di inventarvi un piccolo spezzoncino di algoritmo che va a scegliere una posizione in modo casuale, magari anche in base a quante grande è la stanza. E' una piccola sfida che sono sicuro che potete affrontare. Poiché mi servirà interagire in innumerevoli momenti del gioco col Pac-Man, è praticamente obbligatorio salvarsi un riferimento all'oggetto, all'istanza appena creata, in una variabile globale. Qua assegno una velocità di partenza casuale al Pac-Man in una variabile che chiamo velocità Pac-Man e la scelgo tra tre valori possibili. Anche qua potete scatenare la fantasia. Choose sceglie a caso tra 5 e 6 e 7. Sottolineo che poi non è detto che andremo ad usare tutte queste variabili, è che mi interessa far capire che qua posso definire quel pacchetto di caratteristiche con cui andiamo a controllare il personaggio. Lo status potrebbe essere ad esempio normale, in partenza, oppure potenziato quando il Pac-Man mangia un bonus. L'oggetto bonus dobbiamo ancora introdurlo e disporlo in moto casuale nel percorso. Poi possiamo inventarci un sistema di punti, di punteggio, Pac-Points. Nitro è un boost, una spinta sulla velocità che possa segnare quando lo status passa da normale a potenziato. Quindi ha un impulso che aumenta la velocità per un po' di secondi. E, naturalmente, non possono mancare il numero delle vite ancora da giocarci. Ma per chi avrà la pazienza di andarsi a spulciare la documentazione del Game Maker, scoprirà che già lui, di default, ha un sistema di gestione di queste cose. Per cui io qua, in effetti, sto un po' riscoprendo l'acqua calda, dal punto di vista dell'idee sofisticato di Game Maker. Ma ci interessa anche imparare e migliorarci nella programmazione. Però, chi veramente volesse trasformare il Game Maker nel suo strumento di sviluppo di videogame, tra parentesi, vi sarete accorti, che adesso è anche in grado di generare giochini HTML5. Per cui, veramente può diventare una strada per sfondare nel mondo delle app. Confermiamo e andiamo un po' a vedere se appare nello schema di gioco. Eccolo qua. Adesso è fermo, perché devo andare ancora a programmare i tasti di spostamento. Spostiamoci, allora, sull'oggetto Pac-Man. Doppio clic. E dovremo programmare un discreto numero, eh, di eventi. Allora, si diceva, forse conviene partire con lo spostamento. Quindi aggiungiamo un evento di tastiera, keyboard, left. Aggiungiamo uno script. Che è semplice, tutto sommato, eh. È una sola istruzione. Se deve spostarsi a sinistra, vuol dire diminuire di una qualche quantità la x. Però non fissa, perché dipende intanto dalla sua velocità, quella famosa variabile globale, e anche dal fatto che si stia spostando in modalità potenziata. Quindi la formula che propongo è questa. Tolgo alla x una quantità pari alla velocità, che adesso, in partenza, è scelta in modo casuale, tra 5 e 6 e 7, ricordate? E gli aggiungo eventualmente, no calma, tolgo la somma di queste due quantità. Quindi la velocità negativa, torna indietro, lo spostamento negativo torna indietro, è dato dalla somma del valore della velocità standard, che ha in questo momento il Pac-Man, e l'eventuale stato di potenziato con un boost, un impulso di velocità, dato per il valore memorizzato nella variabile nitro. quindi quando non c'è nitro, è zero, perché il Pac-Man non ha mangiato il bonus, il potenziamento, tolgo semplicemente 5, 6, 7, a seconda di quella che sia la velocità iniziale, e il Pac-Man si sposterà verso sinistra. Se stiamo andando anche molto veloce, quindi con un nitro di 10, allora meno uguale, e tolgo quel 5, 6, 7, e anche il 10, quindi potrebbe diventare meno uguale 17, e quindi spostarsi verso sinistra con una velocità nettamente superiore e proporzionalmente superiore in base al valore di questo nitro, che ancora dobbiamo gestire. In pratica quando si mangerà un potenziamento, in quell'evento andrò ad assegnare un valore a questo global nitro, 5, 6, 7, poi vediamo. Però dopo un po', e ci sarà un allarme per fare questo, associato al Pac-Man, il potenziamento scade, per cui rimetterò global nitro a 0. Confermate. Ora con logica molto simile, andiamo ad aggiungere gli altri eventi, e un po' alla volta andiamocela a programmare tutti. Questo è l'up, andare verso l'alto vuol dire diminuire il valore della y, sempre con la stessa formuletta. passiamo al right, andare a destra vuol dire incrementare la x, e infine il down, cioè incrementare la y. vediamo un pochino cosa succede, facendo partire il game. Ecco qua, sto scorazzando allegramente, ovviamente con più libertà di quella che mi compete, perché riesco a attraversare i mattoni. In effetti, non ho ancora programmato l'evento collisione con un mattone, cosa che farò quanto prima. Sono ancora sul pannello di controllo per il Pac-Man, aggiungo, come dicevo, l'evento di collisione con un mattone. Aggiungete il codice, e io qua mi limito a dire al fantasma fermati. Non sto modificando la variabile globale, quel global con la velocità del Pac-Man, perché quella deve rimanere come riferimento per poi poter riprendere lo spostamento quando utilizzerò un tasto direzione compatibile con la posizione del Pac-Man, cioè che non lo fa scontrare con il mur. Qui poi potete sbizzarirvi, perché potreste aggiungere effetti sonori, oppure far capitare qualcos'altro quando sbam il Pac-Man impatta il mattone. Vediamo se funziona. ecco qui. Adesso non riesco a fare il furbo. Noto che probabilmente mi toccherà scalare un pochino lo sprite del Pac-Man, perché altrimenti, vedete, non riesco a passare, sono proprio al pelo e sono praticamente imprigionato in questo corridoio. Faccio subito. Andate qua nello sprite SP Pac-Man fate clic sull'edit sprite e in Transform trovate questo Scale tirate, trascinate verso sinistra lo slider e vedete che in modo corrispondente state agendo stiamo agendo sulla dimensione del nostro personaggio. Ok. Ok. Forse esagerato, comunque l'importante è aver capito come si fa. Faccio ripartire il gioco e ho Baby Pac-Man pronto all'uso. Ecco, adesso che l'ho rimpicciolito mi si è creato una voragine per passare. Vabbè. Leggi di Murphy. Bene, bene, bene. Funziona. Andiamo ad ora a programmare la collisione col Ghost che è abbastanza interessante. Sempre però in riferimento al Pac-Man. Oddio, potevo anche invertire le cose, però preferisco vederlo dal punto di vista del Pac-Man. Pac-Man aggiunge evento di collisione con il Ghost. Trascino per lo script che è questo. Quello che succede dipende se il Pac-Man poverino nello stato normale che sta scappando oppure se appena appappato un bel bonus e quindi è invincibile e a quel punto inizierà lui a cacciare i fantasmi e a papparseli. Tutto è deciso dallo stato, dal valore della variabile Pac-Status. Vi ricordate che nel setting della Room l'abbiamo impostata a normal. Quindi se è ancora normal, ahimè, e mi sono scontrato con un fantasma, crepo. quindi diminuiamo di uno il numero delle vite poi impostiamo la posizione qui era meglio farlo una parte else perché se poi le vite sono a zero finiamo il gioco quindi miglioriamoci un pochino va? quindi se il numero delle vite è azzerato allora game end questo comando predefinito va a terminare il gioco altrimenti rimettiamo il Pac-Man qui se invece lo status è diverso da normal vuol dire che sarà potenziato with other cioè con l'altro oggetto coinvolto nella collisione che è il il fantasma cosa succede? beh intanto anche se non è una proprietà del fantasma aumentiamo i punti diamo 20 punti al al giocatore al Pac-Man insomma e vaporizziamo il ghost anche qui potremmo aggiungere un po' di animazioni suoni e altre cose e lo rimettiamo mangiato lo rimettiamo nel regginto centrale tanto sapete che c'è l'alarm che abbiamo impostato l'altra volta che dopo un po' lo rimetterà ancora in gioco purtroppo per il Pac-Man proviamo cioè potremo solo provare a morire e a far terminare il gioco velocemente perché finché non programmo i bonus allora andiamoci a cercare un po' di guai ecco uno mannaggia quando vuoi morire poi non ci riesci due e tre c'è anche il discorso del cibo andiamo a programmare la collisione col cibo cioè se lo pappa in pratica quindi collisione col cibo codice di nuovo sfruttiamo il comodo costrutto with other cioè con l'altro oggetto coinvolto istanza di oggetto coinvolto nella collisione che facciamo richiamiamo su di esso l'instance destroy in pratica sparisce quel bocconcino di cibo e aumentiamo di un pochetto non tanto come come capitava quando facevamo fuori un fantasma diciamo non quindi quel 20 non mi ricordo più il valore già 2 è ovvio che queste sono scelte tutte vostre da fare di nuovo potremmo infarcire l'evento con piccole animazioni o cose di questo tipo tra parentesi nella versione commerciale a pagamento che costa pochissimo quindi se volete divertirvi mi sembra 20-30 dollari una cosa di questo tipo avete la possibilità a runtime quindi con un comando che potrei mettere qui di cambiare al volo gli sprite per cui quando vado a destra far vedere che gira la faccina è girata verso destra quando vado a sinistra quando viene mangiato o mangia di conseguenza via con la pappa gnam gnam ecco qui quanti punti bene in un gioco reale dovremmo anche far apparire da qualche parte in un riquadretto dedicarlo al punteggio magari in sovrapposizione ormai sicuramente avete un'idea di come farlo agganciare un alarm o l'evento step dove viene incrementato il punteggio andate ad aggiornare anche il il suo valore sul video e cose di questo tipo o direi di terminare con i bonus intanto dobbiamo aggiungerli proprio come sprite come oggetto aggiungete quindi un sp sprite bonus e sceglietevi qualcosa dai io ho trovato questa pozione magica va benissimo aggiungete anche l'oggetto bonus sp bonus ovviamente il suo sprite solido solido e siamo quindi pronti per raggiungere anche la collisione con il bonus a meno di voler barare dobbiamo distruggere quel bonus e anzi dobbiamo anche ricordarci nella stanza in partenza di piazzare qua la qualche bonus e poi lo facciamo boost per la velocità anche qui il valore è tutto da decidere di 3 è già sufficiente perché i fantasmi non vanno tanto forte poi questo è l'allarme devo resettare l'allarme impostato 10 volte il valore del room speed che è quello poi andiamo a vederlo che è quello che toglie lo stato di potenziato cioè nitro deve tornare a 0 e lo stato del pacman che qua metto a power così quando si scontra con il fantasma vi ricordate c'è il controllo con l'if me lo pappo deve ritornare a normal è questo allarme che poi andremo ad aggiungere facciamolo subito quindi add alarm è 0 tanto sapevo che era il primo e codice ahimè quando scatta l'allarme rimetto a 0 il nitro e il pac status a normal siamo ritornati tra i miseri mortali non ci rimane che andare a piazzare un pochino di bonus qua e là l'ho voluto fare utilizzando uno script perché la logica del del piazzamento della disposizione di questi questi oggetti può essere anche sofisticata ecco perché nei settings nella room e nel suo creation code vado ad aggiungere una chiamata a uno script che poi dovrò ovviamente scrivere piazza bonus piazza disponi fate voi piazza bonus quanti potremmo parametrizzarlo quindi un primo vantaggio dell'utilizzo di uno script con parametri tre bonus non esageriamo e adesso andiamo a scrivere questo piazza bonus ci mettiamo quindi corrispondenza della cartella script destro create script il nome lo decidiamo qui cioè lo scriviamo qui perché è già scelto piazza bonus dichiaro qua due variabili per non entrare in conflitto con altre per sicurezza dichiarate quindi locali il tre che mi sono passato dalla room chiamando il piazza bonus lo vedo qua come argomente zero ricordate siccome è l'unico non faccio confusione non utilizzo la tecnica saggia di copiare in partenza argomente zero uno due o tre in variabili dal nome più significativo quindi per il numero di bonus previsto che cosa si fa continuo a generare in modo casuale due coordinate nuova coordinata x per il bonus da piazzare cercandole in modo un po' brutale lo so però è anche un modo per esemplificare una tecnica che in altre situazioni potrebbe diventare interessante qui vado proprio di forza brutta continuo a generare una x una y finché vedo che se piazzo lì un bonus non entra in un mattone in pratica quindi questo random dice prendo tutta la larghezza della stanza meno la larghezza di un mattone perché deve stare almeno all'interno del perimetro più esterno bene quello mi dà un numero casuale questo random con questo valore lo arrotondo e quello è la x in cui vorrei mettere il bonus la stessa cosa per la y solo che ragiono nei termini della height della stanza ok potrebbe essermi andata bene o male lo capisco utilizzando questo place meeting che mi dice se c'è o non c'è con penetrazione tra il bonus e il mattone quindi io vado avanti finché non ho l'ok da questo controllo che chiaramente devo negare con il no davanti finché non è vero che quando esso da questo ciclo vuol dire che ho generato una x ed una dy libere dal mattone da mattone e lì allora vado a creare eh un bonus potrebbe effettivamente sovrapporsi a un cibo ma siccome il cibo è un po' dappertutto me ne sono diciamo fregato mi sono anche accorto di un errore che forse voi avete già colto adesso l'ho visto girando avanti e indietro per gli oggetti qui ho programmato non lo scontro del pacman con il bonus ma del bonus con se stesso quindi non riesco a papparmi il bonus e sono proprio votato a suicidio per cui mi faccio un copia e incolla di questo codice ctrl c poi prima di cancellarlo se sa mai vado prima sul pacman ed è qua che vado a programmare la collisione con il bonus e incollo il codice di prima ok e adesso vado a cancellare nel bonus questa parte qua delete non si vede un attimo che tiro un po' su questo bottone yes abbiamo fatto un bel po' di modifiche senza provare speriamo che vada tutto bene ok i bonus sono apparsi adesso mangio e mi aspetto qua come una carogna che arrivi certo che vado a veloce a questo punto vedete che li sto mangiando non sto sparendo ma sono loro però tra un po' scatterà l'allarme per cui la mia velocità dovrebbe ritornare forse un po' esagerato perché dire 10 per room speed sono troppi secondi che rimango potenziato ora andiamo a diminuirla praticamente sono invincibile quasi a vita no c'è qualcosa che non va perché rimane troppo lungo nello stato potenziato ora cerchiamo di capire cosa sono evidentemente rimasto stregato dal bonus perché continuo ad associare a lui gli eventi dovrei invece associare al pacman quindi come prima pacman basterebbe dare un'occhiata qua ma dettando la lezione dopo la concentrazione su certi aspetti effettivamente può un po' calare aggiungiamo l'evento l'allarme 0 ecco e cancello ancora da qui ho anche diminuito comunque un pochino qui la la durata del bonus sono nell'evento collisione con il bonus del pacman prima era 10 ho messo 8 anche qua dovete un pochino tarare calibrare in base alle vostre necessità dunque andiamo a prenderci un bonus ok vediamo quanto dura adesso ok e vedete che ora sono ritornato normale per cui sono ancora pappabile e devo andarmi ancora a cercare ecco adesso passo tre ore di video lezione a giocare perché comincia a diventare tutto sommato anche abbastanza divertente oh io vi ho traghettato fin qui e potrebbe anche essere per ora l'ultima video lezione sul pacman e per un bel po' anche sul game maker poi vediamo c'è molto qua da migliorare perché vedete che ancora qualche volta i fantasmi come avevo già avuto modo di sottolineare nelle precedenti lezioni ogni tanto si incastrano i muri e sarebbe bello cercare di capire perché lascio a voi questo compito quindi di preparare delle versioni migliorate più complete di questo giochino o di altri d'accordo alla prossima